La gioia, la gioia, è sempre decisivo la gioia, è sempre decisivo la gioia, di balamasca c'è sempre, è sempre decisivo. E quindi, bene così, bene così. Buongiorno a tutti ragazzi, allora, allora, Sarri, Sarri, se sai che Cristiano Ronaldo ha dei problemi. Va bene, va bene che lo puoi mettere in campo, per dargli possibilità, perché senza Cristiano Ronaldo noi non facciamo la differenza. Non facciamo la differenza, se c'è Cristiano Ronaldo la Juve non fa niente. Ragazzi, Ronaldo, per carità, ha problemi, si sente, si vede, si intuisce, anche lui lo dovrebbe capire, anche lui lo dovrebbe capire. Scusate, però, però, lo mette sempre in campo, Ronaldo, non vuole essere sostituito, però Sarri lo sostituisce. Ma va bene così, è solo perché Ronaldo, cosa vuol dire ragazzi? Quindi, si incavola, si incavola, cosa vuoi, cosa vuoi essere, essere arrabbiato, perché? Perché sei un giocatore normale, sei un giocatore normale. Ronaldo, questo lo deve intendere, perché non è possibile che noi siamo dipendenti da Ronaldo, perché Ronaldo è un'azienda, allora deve essere messo sempre in campo. No, è stato sostituito, entra Dybala, entra Dybala e siamo decisivi. Ma chissà come mai, chissà come mai, ragazzi, senza Ronaldo la Juve gira bene e qua si è visto ragazzi, Dybala. E Douglas Costa, lo, lo yoyo umano, come lo definisco, è, Douglas Costa, cioè decisivo. Con Dybala, Higuain e Douglas Costa, la Juve cambia faccia. La Juve cambia faccia. Inutile che Ronaldo fa 90 minuti, 90 minuti o 70 minuti, per niente, perché Ronaldo rallenta la squadra, ragazzi. Ronaldo rallenta la squadra e per fortuna che Sarri, lui intuisce queste cose qua. Bisogna che, bisogna che, bisogna che entri in testa, che Ronaldo non può fare, stare sempre in campo. O per infortunio, perché ha avuto, perché ha dei, ha dei problemi, infortunio. Però adesso, con la sosta dei, dei, dei nazionali, adesso, Ronaldo, eh, si deciderà a, andare a giocare. E che può darsi che, che faccia anche bene. Però, cioè, impossibile che, Ronaldo venga, venga la voglia di, ma sicuramente le verrà, gli verrà la voglia di, di giocare. Ma non è più all'altezza, non è più all'altezza, dirgli, se hai, se hai un infortunio, vai a, vai a compromettere anche, gli altri, eh, le altre articolazioni. Cioè, va bene, ok. Chiusa per niente, ragazzi, parliamo della partita. Un discorso, un discorso un po' lungo, ma importa. È giusto perché, per fare un mio pensiero, fare un mio pensiero per Ronaldo. Il Milan, ragazzi, ha fatto il suo gioco, ha fatto il suo gioco. Ha fatto la sua partita, è uscita, per me, questa è la mia opinione, a testa alta. Perché, ragazzi, non vediamo, non veniamoci, non, non vediamoci a dire che il Milan non ha giocato bene. Il Milan ha un po' dominato la Juve. Perché, ragazzi, non è possibile che noi non riusciamo mai a fare un gioco concreto. Siamo lenti nel passare, nel fare verticalizzazioni. Non riusciamo ad esprimere un gioco, perché o per Ronaldo, o per Bernardeschi, o per Matthew D, ok? Perché abbiamo un centrocampo da far fastidio, non per il giocatore in sé. Però, non abbiamo un fulcro al centrocampo di essere più dinamici nel costruire gioco al centrocampo. Perché non puoi mettere Bernardeschi, Matthew D, che... Matthew D, ragazzi, non è possibile, non è possibile. È un camion di rimorchio. Cioè, pesta per terra. Quando correre, pesta per terra. Non ha grinta nel prendere palla e correre. Corre a testa bassa. Non ha... Non ha visione del gioco. È lo stesso Bernardeschi. Ma Bernardeschi non è più da Juve, ragazzi. Non è più da Juve. Ma non sto là a dirvi... A dire, perché sono io che vi dico che... Che Bernardeschi non è da Juve. Ma tutti lo sanno. Tutti. Tutti. Perché, ragazzi, non è possibile che... Che Bernardeschi faccia un qualcosa di... Di buono. Neanche di buono. Non ha quel carattere di essere alle Juve. È già... È già da tanto. È già da tre anni. Però da tre anni non abbiamo visto... Un Bernardeschi... Un Bernardeschi che... Che si dia da fare... Che si dà da fare per... Per esplodere nel... Nel gioco della Juventus. È uguale a Ronaldo. Ronaldo, ragazzi, non... Non dà... Quel gioco che... Sarri chiede. Perché Ronaldo... Non lo so... Rallenta il gioco. Va bene. Per il resto, ragazzi... Cessni. Il nostro codice fiscale. Ha fatto... Il... Un super Cessni. Un super Buffon. Perché, ragazzi... Tre, quattro, cinque palloni. E allora, ragazzi... Subiamo tanto... Le ripartenze. Subiamo tanto le ripartenze. Cioè... Gli altri... Gli altri... Ci... Ci superano in... In agilità. Noi non abbiamo... Tanti... Tanto difensori... Ehm... Cioè... Abbiamo difensori, però... Delicta. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Però, ragazzi... Ehm... Ci saltano gli uomini... Ci saltano la difesa come niente. Entrano... Entrano su... Entrano in... Ehm... In maniera... Ehm... In maniera semplice. In difesa... Abbiamo... Una difesa barcollante. In qualche... In qualche frangente. Perché entrano... Ehm... Entrano in... In difesa come niente. Ci saltano... Ci saltano come niente... I... I difensori nostri. Per quello, ragazzi... Ehm... Diciamo, ragazzi... Diciamo, solita Juve. Non è... Non è niente di nuovo. Non è niente di nuovo. Ehm... Sarri... Potrà... Sarri è bravo a... Ehm... A fare i giusti cambi. Sarri... Sa... Ehm... Sa... Sa decidere... Ehm... I giocatori giusti per... Per cambiare la partita. Ma per il resto, ragazzi... Ehm... Non abbiamo ancora... Non abbiamo ancora compreso... Compreso... Ehm... La... L'autentic... L'autenticità del... Del gioco di... Di... Di Sarri. Per quello. Non abbiamo ancora... Non abbiamo ancora... Ehm... Convinto... Scusate... La mosca. Per qualche gira. Ehm... Cioè la... Non abbiamo ancora il... Ehm... Il metodo... Il metodo... Ehm... Di gioco di Sarri. Per quello. Non si è ancora visto. Non si è ancora visto. Ehm... Sarri... Tenta sempre di... Di cambiare... Di modificare... Di mettere... Ehm... I giocatori giusti. E la si vede ragazzi. Si vede perché... Sarri è bravo a fare... A fare i giusti cambi. Però noi siamo dipendenti da... Un giocatore. Che è Doug... Che è Doug nascosta. La ragazzi si vede la differenza. La si vede la differenza. E la Sarri deve... Puntare un po' più... Ehm... Sulla velocità di gioco. Sulla... Deve un po'... Deve un po'... Deve un po'... Deve un po'... Ehm... Immaginare... A sapere... Che... Con... CR7. Ronaldo. Non dà tanto sta differenza qua. E tutti lo vediamo. E tutti lo vediamo. E io spero che... CR7. Anche se... È uscito... Incazzato. Deve capire... Che... Anche se... La Juve... Non può... Comandare. E qua Sarri... L'ha capito. Perché non comanda... Ronaldo. Comanda Sarri. E Sarri che dà... Che dà... I momenti giusti... E i cambi giusti... Per... Ehm... Avere... Una squadra che gira... E una Juve vincente. E la... La Sivel. Va bene ragazzi. Mi sono delungato tanto in questo video. Scusate. E... Niente ragazzi. Una bella... Diciamo... Una... Diciamo... Una bella Juve. Nel complesso una bella Juve. Però... Sbagliamo tanti passaggi elementari. Ehm... Sbagliamo tanti passaggi elementari. Che qua... Deve migliorare Sarri. E qua ragazzi. Ehm... Vediamo... Nelle prossime partite. Ma soprattutto in Champions. Va bene ragazzi. Scusate ragazzi. Del video è lungo. Ehm... Però è giusto che... Dico un po' In dettaglio. Un po' di... Particolari. Ok. Va bene ragazzi. Noi ci sentiamo. Ehm... Grazie per... 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 Per quelli che si sono iscritti. Ehm... Mi raccomando. Speriamo di... Di crescere. Ragazzi. Sono un piccolo youtuber. Niente... Niente di... Niente di spettacolare. Ehm... Noi ci sentiamo al prossimo video. E... Sempre forza Juve. Eh... Però... Dai. Stiamo un po'... Stiamo un... Un pelino migliorando eh. Va bene ragazzi. Noi ci sentiamo. Ciao a tutti.